Sarebbe partito tutto da una minima scintilla ed ecco che da quel momento in poi sono scattati veri attimi di terrore. Un'esplosione improvvisa ha fatto crollare una parte dell'abitazione che ha sepolto un'anziana proprietaria. L'incidente domestico si è verificato alle prime ore della mattina a Corsano, in provincia di Lecce. All'interno dell'abitazione una donna di 77 anni, estratta dalle macerie dal figlio e da un vicino di casa. Tanta paura e subito sono scattati i soccorsi. Sul posto in pochi minuti una tumbulanza del 118 che ha portato la donna all'ospedale di Tricase, dove è stata ricoverata in codice rosso a causa delle ustioni. Le indagini per accertare cosa sia accaduto sono ancora in corso. È probabile che all'origine ci sia una dispersione di gas della stanza. La donna, cosciente all'arrivo dei soccorsi, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.